Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo al capitolo decimo di Marco. Partito di là, al versetto 1, partito di là, venne nella regione della Giudea, al di là del fiume Giordano. La folla corse di nuovo da lui e di nuovo egli insegnava loro, come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, come sempre, te pareva, gli domandavano se è lecita a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro, che cosa vi ha ordinato Mosè? In questa risposta di Gesù vediamo una caratteristica consueta di Gesù, soprattutto quando qualcuno gli fa delle domande per metterlo alla prova. e Gesù risponde spesso con una domanda. Perché gli interrogativi nella vita sono importanti. Sono più le domande che ci facciamo, che dicono il percorso che stiamo vivendo, che non le risposte. Perché le risposte, insomma, chi può dire di avere delle risposte sempre nette nella vita, no? Gesù, appunto, gioca, ma non gioca in senso negativo, ma ci pone sempre degli interrogativi. È questo che ci fa andare in avanti, è questo che permette alla nostra vita, al nostro cuore, di convertirsi. Non facili risposte, non nette risposte, perché le risposte che riguardano poi le persone sono sempre molto singolari, soprattutto, ad esempio, su questo tema. Che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero. A differenza di Gesù, vedete, loro rispondono. Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e ripudiarla. Gesù disse loro per la durezza del vostro cuore e gli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, sta citando la Genesi, Gesù, e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Questo è il sogno di Dio. Appunto, Gesù non dà una facile risposta. E oggi, per essere molto concreti, noi non diamo una facile risposta. Ma ci interroghiamo e camminiamo con le persone. Il sogno di Dio è un amore indissolubile per sempre, come fa Lui, no? Ma nella vita, insomma, la vita può essere complessa. E non è detto che questo sogno sia poi concretamente realizzabile, anche secondo la volontà di Dio, penso, nella vita concreta. Questa cosa qui colpisce molto, no? I discepoli. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. Vedete la differenza dai farisei ai discepoli che seguono Lui? Anche loro lo interrogano e fanno delle domande e fanno bene. E allora disse loro, chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei ha ripudiato il marito e ne sposa un altro, commette adulterio. E poi qui c'è un altro tema, ecco che, insomma, Gesù toglie questa cosa qui da una regola maschilista, o maschilistica, non mi ricordo, no, maschilista, dove solo Lui è dal ripudio a lei. Facciamo di tutto perché, bah, chi di voi ha famiglia, ecco, perché le nostre famiglie crescano nell'amore. Questo è il sogno di Dio. Certe volte questo amore impone delle scelte che possono anche andare contro un legame. Ma, appunto, le situazioni sono singolari. Le cose belle della giornata di ieri. Ieri ho ancora, mi sono ancora impegnato, ecco, nello scrivere un progetto di un bando per la nostra casa di Argentera. E sinceramente non mi ricordo più, se ve l'ho già detto ieri. Però, anche se all'ultimo momento, questa cosa mia passione, perché, lo sapete, questo, Argentera è, insomma, un luogo molto del cuore per tutti noi, e per tutti i ragazzi giovani che vi vanno. E quindi mi fa piacere investire energie e tempo in questa cosa qui, anche se poi domani avremo il doppio weekend e quindi devo fare in fretta. Buona giornata! Ale!